Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo video. Appena terminato il triangolare, la seconda partita del Napoli, Napoli-Lacuola è finita 10 a 0 per il Napoli, ma la cosa importante è soprattutto la grande tripletta di Osemo, il primo minuto al secondo e al settimo, soprattutto il primo gol è veramente una progressione bruciante e poi colpo sotto, bello anche il secondo, mi è piaciuto anche il terzo gol, il resto dei gol ci sono stati, doppietta di Lozano, gol di Mertes, gol di Gula, doppietta di Insigne. Veramente si sta inserendo sempre meglio Osemo, comunque contro una squadra di eccellenza, ha fatto veramente una grande tripletta, una progressione bruciante, grande controllo di Pala, ha veramente, veramente impressionato molto, siamo a qualche 30 secondi alla fine della partita, ho cominciato a fare il video, ha veramente impressionato Osemo, in grande tripletta, quindi Napoli vince tutte e due le partite, ed era comunque abbastanza scontato contro due squadre veramente molto, molto inferiore a Napoli, 10 a 0. Adesso arriva l'undicesimo gol del Napoli con Insigne, in questo preciso momento su assist di, adesso ve lo dico subito, un dicesimo gol del Napoli con Insigne, che quindi Insigne anche lui fa tripletta di Insigne su assist di Lozano, quindi siamo 11 a 0 per il Napoli contro l'Aquila, finisce così e Napoli, come era scontato, vince il triangolare, batte 11 a 0 l'Aquila, soprattutto sta molto impressionando Osemo, è veramente una grande tripletta. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Un buon proseguimento di giornale che è la vostra grande capitana Napoli, ciao via! Un buon proseguimento di giornale, è un buon proseguimento di giornale, è un buon proseguimento di giornale,